ciao amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale oggi ho portato per voi dei video davvero raccapriccianti e spaventosi prima di cominciare come al solito ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo questa foto è stata scattata in un ospedale militare da parte di una ragazza che prestava servizio notturno in quel posto la giovane racconta che il più delle volte mentre era in quel luogo aveva la sensazione come se qualcuno la stesse osservando una sera mentre era nella sua stanza da sola avverte la stessa sensazione a quel punto decide di scattare questa foto e il risultato è davvero impressionante alcuni eventi paranormali terrorizzano questa famiglia che vive in questa casa di campagna che ha realizzato questo filmato più passa il tempo e più quei fenomeni continuano ad aumentare il tutto viene ripreso e documentato questo è ciò che è stato filmato è stato filmato il video il video seguente mostra un'attività poltergeist davvero impressionante alcuni oggetti vengono lanciati a terra altri vengono spostati come se non bastasse la maniglia di una porta si muove in continuazione come se qualcosa volesse entrare il video è davvero impressionante questo è ciò che è stato ripreso il video il video il video è davvero impressionante questo è ciò che è stato filmato no 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 il video è stato filmato il prossimo filmato ragazzi è stato catturato da una telecamera di sicurezza il video mostra in piena notte l'apparizione di questa strana sagoma bianca la stessa sembra che ad un certo punto scompaia per poi riapparire e scomparire del tutto dall'obiettivo della telecamera non so se potrebbe essere un'anomalia della telecamera ma di certo questo filmato è davvero impressionante l'ultimo filmato è stato realizzato da un camionista mentre era in viaggio su una piccola strada nota sul fondo di un bosco una strana creatura a questo punto l'uomo ferma il mezzo scende e va a controllare e questo è ciò che è stato filmato l'uomo ferma siamo giunti al termine ragazzi il video finisce qui fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi filmati io vi saluto e come al solito ci rivediamo alla prossima ciao ciao